Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon day, vi ho detto che l'intelligenza non è che assunti doperare si fru, e io ho detto che assunti doperare e cresce anche la memoria, anche la volontà, così, no? E io ho pensato che tutti, tal in prima, ho vinto l'intelligenza, perché dipende dal doperare la quantità di intelligenza. Non ho troppo interesse che sia perché si dopera l'intelligenza che sia altro che ha l'interesse. Ecco, troppo interesse, troppe passioni vengono, e che passioni vengono? Troppo sono ferventi proprio te. Ecco, dipende lì l'intelligenza, il sviluppo dell'intelligenza. Di modo che non possiamo dire di nessun caleo stupido, al poi si vede doperare l'intelligenza, manco di altri. E tu, vedi che tu sei intelligente, tu sei intelligente. Doprile l'intelligenza e accrescerà. Buona giornata e buona vita.